Gravissima in ospedale per quattro coltellate la giovane rumena aggredita a busso ricoverata in rianimazione il 43enne in carcere qualche giorno fa sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Il ruolo delle regioni, i governatori a Pescara, i presidenti di Abruzzo e Molise d'accordo sul futuro comune con le Marche verso la macroarea dell'Adriatico. Volpe Pasini replica, ci siamo ritirati, l'imprenditore conferma l'abbandono della trattativa e smentisce la posizione di frattura, Aia sarebbe interessata solo all'incubatoio. Biblioteca Albino, un patrimonio da salvare a Campobasso, sempre più critica la situazione del centro culturale della città, l'Istat conferma la scarsa attitudine dei molisani alla lettura in 184 mila, mai un libro nel 2014. Giornata dello sport, domani i premi, Sara Simeoni e Pasquale Gravina, ospiti d'eccezione al Galà per i migliori atleti del 2014, a Campobasso anche il presidente del CONI Malagò e quello paralimpico Pancalli. Buon pomeriggio, edizione delle 14 del nostro telegiornale, un saluto a tutti voi, la cronaca in apertura con l'accoltellamento di Busso, si è scoperto durante l'approfondimento della storia che ha visto coinvolto un 43enne di Castropignano e la sua ex convivente, una ragazza di 33 anni, proveniente dalla Romania, che l'uomo era stato sottoposto qualche giorno fa ad un trattamento sanitario obbligatorio. Dunque la situazione si comincia a dipanare, l'uomo avrebbe avuto soprattutto in questo periodo problemi psichiatrici, intanto le condizioni della ragazza restano gravissime, è stata operata al Cardarelli, ci aggiorna sullo scenario Tonino Danese. È stata operata ed è ricoverata in rianimazione al Cardarelli di Campobasso, la prognosi resta riservata e sotto osservazione la romena di 32 anni accoltellata dal suo ex convivente in un appartamento delle case popolari a Busso. Da due mesi si erano separati, lui, 43 anni di Castropignano, aveva con sé una scala lausata per entrare in casa, aveva anche un coltello con una lama di 18 centimetri con il quale ha colpito la donna. Quattro fendenti tra l'addome e la spalla, poi è scappato. I dettagli sono stati illustrati dai carabinieri che poi hanno arrestato l'uomo ad avvertirli una telefonata di una persona che aveva sentito gridare nell'appartamento. Senza una telefonata di un cittadino che ci informava proprio di questa lite in atto sarebbe potuto il reato essere non di tentato omicidio, bensì di omicidio. Quindi fondamentale, ripeto, fondamentale la collaborazione della popolazione. Nel giro di pochi minuti sono arrivati i carabinieri di Baranello con il maresciallo Narducci. La donna sul divano insanguinata grave la ferita all'addome con un filo di voce ha raccontato cosa era successo mentre gli stessi militari tamponavano lo squarcio all'arrivo del 118 e la corsa in ospedale. Ascoltati anche alcuni vicini della donna immediatamente sono stati allertati i carabinieri della compagnia di Boiano e il maresciallo Marino, a capo del nucleo radiomobile, ha capito chi era l'autore perché lui aveva comandato la stazione di Castropignano e i cui colleghi erano sul territorio. Li ha avvertiti e mandati dove presumibilmente l'uomo poteva essere scappato. Mi preme sottolineare come appunto proprio la comunicazione e la tempestività delle comunicazioni avvenute tra i vari reparti della compagnia di Boiano ha fatto sì che nel giro di soltanto 20 minuti siamo stati in grado di eseguire il fermo a carico di questo soggetto. I carabinieri lo hanno intercettato. Sulla Bifernina era su una Renault Clione, è nato un inseguimento di una quindicina di chilometri, ha forzato un posto di blocco, sono intervenuti anche i militari. Da Boiano infine lo hanno fermato. Quando è stato preso l'uomo non ha detto nulla, aveva i vestiti sporchi di sangue, un cambio nell'auto e aveva ritirato 700 euro. Ora è in carcere a Campobasso a disposizione della magistratura. L'accusa più grave è tentato omicidio. Il movente forse passionale non avrebbe accettato la separazione. Il 43enne era stato arrestato anche nel 2005. Precedenti per droga, attualmente disoccupato, qualche giorno fa ha subito un trattamento sanitario obbligatorio, ha problemi psichici. È difeso dall'avvocato Angelo Piunno. La rumena ferita, senza lavoro, aiutata ad andare avanti anche dal sindaco e dai concittadini a una figlia di 12 anni, nata da una precedente relazione. La bimba ora affidata a una famiglia di busso in attesa che arrivino alcuni parenti. Era uno snodo fondamentale oggi a Palazzo Madama il voto sull'italicum degli, la legge elettorale in discussione al Senato, sugli emendamenti presentati da Gotor, uno dei deputati del Partito Democratico della minoranza. Emendamenti che sono stati bocciati, sui quali ha votato a favore anche il senatore del Partito Democratico, Roberto Ruta, il quale ha voluto dare pieno sostegno, ha detto, agli emendamenti di Gotor, sottoscritti con convinzione e votati per dire no a un Parlamento di nominati. Con il sistema di liste bloccate, ha spiegato Ruta, il numero dei parlamentari nominati rischia di essere maggiore rispetto a quello dei parlamentari eletti dai cittadini. L'emendamento Gotor, respinto dall'Aula, ha concluso il senatore, mirava a garantire che almeno il 70% dei deputati dell'unica Camera eletta a suffraggio universale fosse scelto direttamente dagli elettori e non nominati dalle segreterie. Parliamo della questione GAM, nuovo capitolo dopo il botta e risposta tra Pasini e il governatore Frattura, arriva la nuova precisazione dell'imprenditore che in sostanza smentisce il governatore e conferma di aver abbandonato definitivamente il campo. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Tra conferme e smentite, velenie e bugie, si ingarbuglia sempre di più la vertenza GAM, ma Paolo Frattura è fiducioso. Una settimana di tempo per scegliere il partner che dovrà gestire la fase transitoria del rilancio GAM. È questa la promessa fatta dal Presidente ai lavoratori incontrati insieme ai capigruppo a margine della riunione del Consiglio regionale. Paolo Frattura ha anche comunicato di non aver ricevuto alcuna disdetta da parte di Diego Volpe Pasini e di poter scegliere quindi tra le due proposte, Aria Food e Aia. Ma Aia cosa ci vuol dare? Ma perché non chiamate a chi conosce Aia che sono 38 anni? Vi devo raccontare la storia di Aia. Aia fa di tutto per distruggere un altro, perché lei vuol comandare. E voi ci siete cascati per la seconda volta, Presidente. Questa è la seconda volta che voi siete cascati in una trappola. Mi dite tra dieci giorni fa e oggi cosa è cambiato, che per la gestione transitoria ci sono due proposte. No, Presidente, scusate. Aspetta, il pollo per la gestione temporanea... Io non ho ricevuto, io, io non ho ricevuto rinunce. L'ho appreso dai media, l'ho letto sui giornali. Nei fatti però, al momento, non esiste nessuna proposta concreta, in quanto quella formulata dalla società agricola La Pellegrina, che gestisce solo gli incubatori del gruppo Aia, prevede una disponibilità di massima a gestire anche quello della gamma, ma non esiste nessun progetto operativo. Peraltro, il responsabile della società, Mario Innocenti, da noi contattato telefonicamente, ha dichiarato che da diversi anni loro puntavano alla gestione dell'incubatore dell'azienda boianese, peraltro già acquisito per tutto il 2015, e ad acquistare i polli molisani da macellare, però fuori regione. Al momento, ha dichiarato infatti testualmente Mario Innocenti, non siamo interessati alla gestione del macello, un fulmine a ciel sereno dunque, che di fatto esclude un intervento del gruppo Aia sul rilancio dell'intera filiera avicola molisana. L'altra proposta, invece, quella di Area Food, non esiste più, anche se Frattura si ostina a dichiarare di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito. Diego Volpe Pasini, però, lo ha sbugiardato in tempo reale, inviando alle redazioni la nota già spedita all'amministratore unico della gamma, Nicola Baranello, e per conoscenza al presidente Frattura. Dunque, la frittata è servita, ed è davvero incredibile e paradossale il fatto che, a distanza di 15 mesi dalla chiusura della gamma, si continui a prendere in giro e a raccontare frottole ai lavoratori, sempre più disperati, che al momento sono senza cassa integrazione e senza futuro. Sulla avvertenza gamma, ha preso posizione Ruta, che era stato accusato da Diego Volpe Pasini di aver influenzato la manifestazione di interesse del gruppo Aia. Tra i dieci punti sottoscritti con il presidente Frattura, ha ricordato il senatore, il rilancio della filiera Vicola rappresenta quello più importante e di maggiore criticità. Con Frattura ho condiviso, ha detto ancora Ruta, la necessità di sollecitare le più grandi aziende agroalimentari del settore perché partecipassero alla gara con l'obiettivo di ottenere la migliore offerta possibile. Ora andiamo a Pescara, dove questa mattina si è svolto un incontro tra i due governatori di Abruzzo e Molise per discutere della macro-regione adriatica. Non c'era il presidente della regione Marche, ma sia D'Alfonso che Frattura si sono detti d'accordo sulla prospettiva di riunire sotto la stessa bandiera questi tre territori. Da Pescara, la nostra collega di TV6, Francesca Testi. Spending Review Tiranna, abbassare i costi per far funzionare il sistema. Dopo le province si passa alle regioni e così si inizia a parlare di accorpamenti. Regioni unite sotto un solo nome, un solo governo, una sola delimitazione geografica. L'Abruzzo, il Molise e le Marche potrebbero trasformarsi nella macro-regione adriatica. E così a Pescara si incontrano due protagonisti. Luciano D'Alfonso, presidente della regione Abruzzo e Paolo Di Laura Frattura, presidente della regione Molise. Un faccia a faccia per capire intenzioni, coalizioni e destino dei poteri e dell'economia. Luciano D'Alfonso apre il suo discorso con un fiume di cifre. Quelle trovate dopo il governo Chiodi e spiega come in 190 giorni abbia snellito ruoli e costi della pubblica amministrazione. La nuova regione non è una lotta di potere per il trono, ma un'occasione per ingrandire tutti i settori strategici e le infrastrutture prima di tutto. Io sono pronto a cedere il passo alla condizione che l'amministrazione pubblica diventi una funzione della vita delle imprese, della qualità della vita delle persone e dei territori. E noi dobbiamo concepire l'ingrandimento dal livello delle regioni in sopra e la prossimità dal livello delle regioni in sotto. Starei per dire, per usare un termine caro a Mattoscio, che le città devono essere piccole e le regioni e gli stati devono essere grandi. Paolo Di Laura Frattura risponde annoverando i suoi di numeri e dicendo l'Abruzzo, descritto da D'Alfonso, è per noi un guanto di sfida. Ma noi abbiamo un vantaggio rispetto al vostro governo, un anno in più di insediamento, nel corso del quale abbiamo risanato una regione che vedeva bocciato il suo bilancio dalla Corte dei Conti da lontano 2010. Dal 2013 il Consuntivo ha dimostrato il riordino dei conti. Se oggi dovessimo dire quali carte mettere in campo per correre alla velocità citata dall'Abruzzo, nel nostro caso si parlerebbe di alta velocità nel dare riscontri e poi di trasparenza. La rendicontazione dei conti deve essere un invito ai cittadini per entrare nel merito del nostro operato e per il trono di governatore pensa a nuove elezioni. Con l'Abruzzo c'è già la determinazione di lavorare a organismi comuni. Con una ridefinizione degli ambiti amministrativi si tornerebbe chiaramente a votare per eleggere la governance della nuova marca adriatico o quello che sarà. Quindi rispetto a questo non ci può essere oggi alcun tentativo di aggregazione o di proposta politica se tutto questo prima non ha una dimensione amministrativa. Torniamo in Molise e parliamo della telenovela ormai tra l'Università e il Comune di Isernia. La conferma che l'Ateneo lascia la sede di Via Mazzini dove c'era Scienze Politiche è ormai fatto acclarato. Ci aggiorna però sulla situazione interna cittadina soprattutto Enzo Di Gaetano. È ufficiale. Il Senato accademico ha ratificato la decisione di spostare Scienze Politiche dal centro storico. In sostanza l'Università del Molise dopo circa 30 anni cessa di avere una sua rappresentanza nella città di Isernia. La Facoltà di Scienze Politiche, l'unica rimasta dopo la migrazione di Scienze Ambientali e Lettere, non andrà solo a pesche ma funzionerà parallelamente anche a Campobasso, dando modo agli studenti di poter liberamente scegliere se seguire i corsi nell'ex sede del CNR oppure nella sede centrale dell'Università del Molise a Campobasso, entrambe collegate via web. Inoltre l'Unimo l'apre le porte ad una possibile collaborazione con la Sapienza per il funzionamento a Isernia di un polo della formazione universitaria nelle scienze sanitarie che potrebbe essere ospitato nell'ex convitto Vescovile. La decisione dell'Unimo e soprattutto la rassegnazione con cui l'amministrazione comunale di Isernia l'ha subita non sono rimaste senza reazioni. A dire il vero la minoranza non ha detto una parola. Chi parla invece è la gente per strada che contesta apertamente l'esito della vicenda e chi come Elio Franceschelli, artista ma anche ex assessore di una indimenticabile giunta veneziale parla apertamente di classe politica inadeguata. Io credo di sì che la collettività isernina anche nella classe politica stia segnando il passo. ci siano dei grossi passi indietro. Noi non possiamo fare altro, siamo dei cittadini che gridare queste cose, prenderne atto di queste cose con amarezza. Cioè loro stanno permanentemente fuori fuoco. Non mettono a fuoco quali sono le problematiche vere di questa terra, sebbene hanno l'attenuante di un periodo di crisi generale. Però bisogna lavorare come collettività insieme e questo riguarda pure l'opposizione. Riguarda la maggioranza e riguarda l'opposizione che a fronte dell'inefficacia di questa maggioranza non propone dei piani alternativi a che almeno i cittadini possano giudicare. E quindi si naviga nel buio, si naviga nel buio e purtroppo è così e noi non possiamo fare altro che gridare questa cosa a chi come me ha interagito con questa realtà facendo delle cose anche di qualità. E quindi credo che noi possiamo per il nostro passato anche dire qualcosa, spendere qualche parola di protesta rispetto a questa deriva. Noi non ci sentiavano la stessa barca, questo è il problema. Situazione ancora tutta da definire, quella della Biblioteca Albino a Campobasso dove su una struttura fulcro delle attività culturali rischia di calare il sipario nell'indifferenza delle istituzioni. Vediamo. Uno studio dell'Istat ha confermato quello che è noto da tempo. I molisani non leggono, ma non sono solo i giornali ad andare in sofferenza. La chiusura dell'edizione regionale del tempo, la testata più antica in Molise, peraltro passata per lo più sotto silenzio, allunga l'elenco di una lista già lunga. L'Istituto di Ricerca Nazionale ha certificato che durante l'anno appena trascorso 184.000 molisani non hanno aperto neppure un libro, il 61,2% della popolazione. Solo il 37% invece ne ha letto almeno uno nel 2014. L'indagine riguarda tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno sei anni. È la fotografia piuttosto desolante dello scenario in cui si dibattono le associazioni culturali, chi organizza manifestazioni e più in generale chi offre servizi ai lettori. Nel pubblico l'affossamento consapevole della Biblioteca Albino è la naturale conseguenza di un quadro a tinte fosche. Non ci sono soldi, la competenza è di quello piuttosto che di quell'altro. I bilanci sono in rosso, l'assessore Tizio aveva detto, Caio aveva promesso e così via nella solita tiritera di un balletto al quale purtroppo abbiamo più volte assistito. Migliaia di associati hanno per decenni letto libri nelle sale della biblioteca. Di sicuro sono il 37% segnalato dall'Istat, ma con il decadimento dell'Albino il dato è destinato fatalmente a scendere ancora. Nella città capoluogo di regione e centro universitario i laureandi hanno utilizzato l'enorme mole di fonti disponibili, gratis, al servizio di un bene comune, così dovrebbe essere nelle zone toccate da civiltà dove la cultura fa crescere e migliora i cittadini. Al di là delle persone che ci hanno lavorato e continuano a lavorarci, tutte brave e dignitose, è questo il dato che allarma di più. Qualcuno sarà pure responsabile se la provincia è ormai spogliata della delega alla cultura, comune e regione con il sindaco e il governatore in testa non possono voltarsi dall'altra parte mentre cala il sipario davanti a una platea ormai vuota. Al comune di Campobasso si profila un nuovo caso già russo all'ex direttore dell'Agenzia regionale della protezione civile, non è stato rinnovato l'incarico e i consiglieri della coalizione civica parlano di rappresaglia. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Dall'Agenzia regionale di protezione civile al comune di Campobasso per Giuseppe Gianrusso sembra non esserci pace. Il sindaco Battista non ha rinnovato l'incarico dirigenziale nel settore dei lavori pubblici, scaduto qualche giorno fa ed ha affidato temporaneamente ad un altro dirigente del comune in attesa del nuovo bando. Un provvedimento che ha provocato la dura presa di posizione dei consiglieri cancellario Pilone, Coralbo, Tramontano e Scasserra, che fanno parte della coalizione civica, a cui si è aggiunto anche un esponente di maggioranza, Elio Madonna del Centro Democratico. Senza troppi giri di parole parlano di rappresaglia politica nei confronti di Gianrusso, che dopo essere stato rimosso dal vertice della protezione civile regionale, era stato assegnato al comune di Campobasso. Ebbene, secondo i consiglieri della coalizione civica Battista sulla scia della decisione assunta dalla regione, avrebbe dato il ben servito al dirigente nonostante, hanno sottolineato, abbia svolto il proprio lavoro con professionalità. Per questo motivo la decisione del sindaco viene giudicata incomprensibile dagli esponenti di opposizione. Il nostro auspicio è che tale decisione non sia invece scaturita da sterili rappresaglie politiche, hanno dichiarato. Rappresaglie causate dal recente provvedimento con cui il giudice del lavoro del Tribunale di Campobasso ha stigmatizzato l'illegittimità della revoca del precedente incarico dirigenziale rivestito da Gianrusso la protezione civile con la condanna dell'ente al pagamento dell'indenità che sarebbe rospettata al dirigente illegittimamente destituito dall'incarico. Se così fosse, hanno aggiunto, la politica avrebbe procurato irresponsabilmente un doppio danno alla collettività, il primo di tipo strettamente economico con il pagamento del risarcimento del danno ed il secondo derivante dal fatto che la città di Campobasso ha perso l'occasione di avvalersi dell'operato di un dirigente degno di tale nome, hanno concluso i consiglieri della coalizione civica. È stato identificato l'autore di una serie di furti avvenuti in alcune attività commerciali di Isernia e dei paesi vicini con l'impego di banconote false. Le indagini dei carabinieri della squadra mobile hanno consentito al GIP Antonio Ruscito di disporre l'obbligo di dimora per Fausto Improta, un operario di 50 anni di Napoli, residente a Poggio Reale. Dalle indagini coordinate dal procuratore Albano è emerso che l'uomo usava banconote da 50 euro false e riusciva a svuotare gli apparecchi cambiamonete che sono nelle sale giochi o ai distributori di carburante intascando di conseguenza soldi veri. Questo stratagemma gli avrebbe permesso di incassare almeno 10.000 euro. Dieci anni fa la scomparsa di Girolamo La Penna, una delle figure principali della storia politica della regione, se ne è parlato a Termoli. Telemolise invece ha avvicinato Enrico Santoro che è stato uno degli uomini più vicini dal punto di vista politico al deputato senatore della democrazia cristiana. Lo ha intervistato Enzo Di Gaetano. Ricorre oggi il decennale della morte di Girolamo La Penna, ex sindaco di Termoli ed ex parlamentare per più legislature, una figura la sua che ha segnato la nascita e i primi progressi della regione molise. Uno degli uomini che gli fu più vicino e ne condivise gran parte del percorso fu Enrico Santoro, sindaco come lui ma anche presidente della regione, indicato dalla Penna, nei tempi in cui ancora non c'era l'elezione diretta dei governatori. Allora la penna contava e parecchio nel sistema di potere molisano. Era uno dei maggiori esponenti di un partito, la democrazia cristiana, che quando si votava in Molise batteva ogni record, arrivando al 60-70% dei voti. Insomma, il Molise era la DC e la DC era il Molise. Altri tempi. La penna è stata un grande. La penna direi che ha saputo interpretare, come anche altri politici da sedati in poi, ma ha saputo interpretare quell'anima generosa, di grande volontà e di fascino che avevano della politica tanti giovani, fra i quali me. Posso dire, come dicevi tu Enzo, che in effetti ero l'uomo su cui lui ha puntato. Infatti appena ha potuto, dopo Daimbo, il primo presidente, l'apenniano, fanfaniano, che lui ha indicato, è stato Enrico Santoro. Gli altri sono venuti dopo per condizioni create, ma di questo credo che dovremmo trovare il tempo. Il Molise deve molto alla penna. Il Molise dovrebbe trovare la possibilità di dare alla penna un momento ed un significativo gesto di riconoscenza. La penna, Santoro, i due sindaci di due città, Termoli e Isernia, che in quei tempi conobbero un destino diverso da quello precedente. Ecco, Santoro e la penna sono stati i sindaci della nascita, possiamo dire, della regione Molise. Come no? Ma non voglio parlare di me perché non è il caso. Era, direi, quasi in parallelo. Lui sindaco di Termoli, io giovanissimo vice sindaco di Isernia. Lui presidente, la cosa importante, quando lui fu fatto presidente del comitato per l'istituzione della regione Molise. Doveva scegliere uno che faceva un po', raccoglieva le delibere, incitava e scelse quel giovane vice sindaco, giovanissimo allora, di Isernia, che in effetti girò tutti i comuni, specialmente dell'Alto Molise, riuscì a convincere tanti a fare la delibera perché in verità alcuni comuni non erano d'accordo. Dopodiché, accelerando moltissimo, diciamo, siamo passati al momento in cui lui sindaco di Termoli, io sindaco di Isernia. E puntata speciale di Millibar questa sera alle 21, la trasmissione condotta da Pasquale Di Bello, proprio dedicata al ricordo di La Penna. Ci saranno l'ex assessore Vitaliano Antonio D'Ambrosio e l'editore Stefano Leone. Durante la trasmissione sarà anche un'intervista al professore Giovanni Giandomenico, già presidente della regione, in un ricordo della figura di La Penna affidato all'ex ministro Remo Gaspari. Andiamo a Sesto Campano, ora dove i carabinieri hanno scoperto una discarica. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Mentre la procura della Repubblica di Sernia continua a indagare sui rifiuti sospetti interrati nell'area venafrana, il Molise continua a svolgere il poco edificante ruolo di pattumiera della Campania. Con una novità, ora non ci si preoccupa neanche più di scavare e nascondere tutto. I rifiuti vengono semplicemente abbandonati, basta trovare un luogo relativamente isolato e il gioco è fatto. E' quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Sesto Campano, in seguito a una serie di controlli contro lo smaltimento illecito e contro l'inquinamento ambientale disposti dal comando provinciale dell'arma di Isernia. In località Carrera del Conte era stata creata una vera e propria discarica abusiva, dove venivano abbandonati flaconi contenenti solventi di laboratorio e altri materiali ritenuti altamente nocivi. Finora le indagini dei carabinieri hanno permesso di individuare e denunciare quattro persone. Sono tutti gestori di società operanti nel settore edile. Uno proviene da Afragola, altri due da Piedimonte Matese e un quarto da Venafro. Dovranno rispondere tutti di smaltimento illecito di rifiuti speciali. I militari dell'arma hanno sequestrato l'area e affidato i rifiuti a una ditta specializzata. Nel frattempo, come detto, proseguono le indagini sui rifiuti interrati nelle campagne tra Sesto Campano e Venafro. Il procuratore Paolo Albano ha parlato di inchiesta tutt'altro che conclusa e di nuovi siti da esplorare. Nelle prossime settimane dunque gli escavatori dovrebbero rimettersi nuovamente in moto. Gestire la complessità e nuovi bisogni di cure se ne parlerà sabato mattina e sabato pomeriggio alla GIL di Campobasso. Ne abbiamo parlato con il direttore scientifico del convegno Giuseppe Berardi. Sentiamolo nell'intervista. Sabato un convegno dal titolo Gestire la complessità e nuovi bisogni di cure all'auditorium della ex GIL di Campobasso. Il convegno è organizzato dallo SNAMID, che è il settore culturale e scientifico del sindacato medico SNAMI. Con l'allungamento della vita e quindi con l'invecchiamento della popolazione avremo un numero crescente di pazienti affetti non da una ma da più patologie contemporaneamente. Sono questi i pazienti che noi definiamo come pazienti complessi e la medicina della complessità è quella che cura e studia questi pazienti. Medicina della complessità che ha la sua importanza oggi in quanto dobbiamo ricordare che il 30% della popolazione italiana è rappresentata da pazienti complessi che assorbono ben il 70% dell'intera spesa sanitaria nazionale. Il filo conduttore dunque del convegno è proprio la complessità in medicina, quindi la medicina di complessità come lei diceva Giuseppe Berardi che è il direttore scientifico di questo convegno tra gli organizzatori, però si parlerà anche di tanto altro. Certo, parleremo come dalla brochure della gestione di questi pazienti complessi con proposte di integrazione tra territorio e ospedale con possibili modelli di management, l'appropriatezza delle prescrizioni diagnostiche del fascicolo sanitario che non è un semplice archivio digitale e infine anche dell'istituzione di una rete per lo scompenso cardiaco nel Molise. Vista l'importanza, la rilevanza di questo incontro e l'importanza e la qualità dei relatori locali e nazionali, invitiamo un po' tutti gli operatori sanitari, non solo medici ma anche tecnici, biologi, infermieri ad aderirvi a sabato prossimo 24 gennaio a partire dalle 8.30 presso l'auditorium Palazzo Gil a Campobasso in Via Milano. Facciamo gli auguri ad Antonietta Padula di Civitanova del Sannio che oggi compie 103 anni, a 103 anni una delle nonne della nostra regione, l'hanno festeggiata nipoti, sorella, amici, Antonietta una donna energica e vivace, a lei anche naturalmente gli auguri di Telemolise. A proposito di auguri di Telemolise facciamo le congratulazioni al nostro amico e collega Fabrizio Chionero che oggi a Roma discutendo una tesina sulla carrese ha superato l'esame da giornalista professionista e dunque congratulazioni a lui. Prima di salutarci però diamo un appello per questi tre cuccioli, hanno poco più di un mese, sono due nella foto ma ne dovrebbe comparire forse un altro, comunque sono tutti e tre maschi e chi volesse adottarli può mettersi in contatto con la nostra redazione. Abbiamo concluso, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio, ci vediamo alle 15 per gli aggiornamenti.